Un'iniziativa per sensibilizzare sulle lotte e sulle condizioni delle donne in Africa con una provocazione. Il Nobel per la pace ha le lotte delle donne in Africa. Sì, allora questa iniziativa parte da due grosse associazioni di organizzazioni non governative, il Cipsi e Chiama Africa. Io ho letto questo appello, è scritto in tutte le lingue, che dice appunto l'Africa cammina con i pieni delle donne. E mi è sembrato molto bello, visto che si rivolgeva a protagoniste umili di una lotta quotidiana alla prevaricazione del potere e all'affermazione dei diritti. Di chi fa la guerra contro la guerra, ogni giorno in silenzio, lontano dalla visibilità mediatica. Ecco, a loro quindi come soggetto collettivo, non quindi come un soggetto individuale, noi pensiamo possa essere dato il premio Nobel per la pace per il 2011. E' per questo motivo che noi abbiamo voluto impegnarci e dare praticamente un sostegno come politica, come istituzione parlamentare ed essere un'altra gamba che fa camminare appunto le donne e l'Africa. E io spero migliori la convivenza civile anche in tutto il mondo. Quello che abbiamo fatto è cercare di fare aderire il più grosso numero di parlamentari perché questa sia una gamba che fa camminare il premio Nobel per la pace per le donne africane per il 2011 con un sostegno anche parlamentare e istituzionale. Credo che loro abbiano bisogno di questo sostegno a livello internazionale e quindi ci auguriamo che alle edizioni arrivino da tutte le parti. Abbiamo bisogno di 2 milioni di firme. Voi siete i promotori qui in Parlamento ma cercate firme anche nella maggioranza. Allora anche in questi tempi di politica così travagliata si possono trovare temi trasversali? Se le aule parlamentari sono appesantite e affaticate questo è un tema che credo possa trovare condivisione laddove praticamente si sostiene chi umilmente, silenziosamente, quotidianamente lotta contro la prevaricazione del potere e per l'affermazione dei diritti. E allora penso che su questo non ci possa essere divisione.